Alessia Vitali, Magnolia Molisana Basket sconfitta da un grande basket Roma, uscite comunque a testa altissima da questa semifinale. Sì, usciamo a testa alta perché comunque abbiamo dato tutto, abbiamo portato a casa una vittoria anche se non siamo passate, però l'importante è che abbiamo dato tutto e sono orgogliosa di questa squadra. Un cammino davvero incredibile, siete state protagoniste fin dalla prima giornata di campionato, gettate quindi le basi per fare qualcosa di più importante in futuro. Sì certo, è stato un campionato molto lungo, molto intenso, però abbiamo dato sempre il massimo a ogni partita, quindi dobbiamo essere solamente orgogliose e guardare avanti. Dal punto di vista personale che bilancio si può fare di questa stagione? Una stagione molto impegnativa, ma comunque mi sono sempre impegnata ogni partita, abbiamo portato secondo me a casa un ottimo risultato e ora pensiamo solo all'anno prossimo.